Ciao, sono Fabio Varesano, in questo video vi mostro il Fento Duino Femto Duino è un'ultra-small arduino compatible board, è designato per gli usati avanzati, che bisogna una molto piccola, ma molto potente, arduino compatible board. Femto Duino ha un ATmega 328, quindi ha esattamente lo stesso potere dell'arduino 2009 o dell'arduino uno, ma è venuto con la versione QFN32 del ATmega 328, quindi ho potuto designare un molto piccolo pcb, e risulta in quello che è ora la più piccola e leggera arduino Femto Duino ha un ATmega 328, un status, un power led, e un usual system check led, qui. Ha anche un regolatore integrato, e un resonator. I colleghi sono spazzati 0.05 in, ma potete ancora inserire qui un livello arduino, ma è venuto con un handy breakout board, che puoi usare come questo. Puoi aggiungere il Fento Duino dentro, come questo, e puoi avere tutti questi piccoli colleghi, che sono le usuali 0.1 in, quindi puoi usare in un prodotto standard di prototipo. Ma il Femto Duino può essere programmato usando un porto regolare FTDI breakout board, disponibile ad esempio da Sparkfun. Questi sono i colleghi corrispondenti necessari da Sparkfun breakout board, ma puoi anche usare un regolatore arduino 2009, se riusciti il microcontroller e li colleghi come vi mostro. Ok, quindi ho colleghi il Femto Duino ad un arduino 2009, usando la linea seriale, qui, il corrispondente del Femto Duino, la linea del 5V, e qui la linea del reset. Con questa connessione, puoi usare l'Arduino IDE per programmare il Femto Duino, come potrebbe fare se avessi programmato un regolatore arduino. qui ho l'esercizio del bling-without-delay. Qui ho l'esercizio del bling-without-delay dell'arduino, e ora clicco l'applicazione Upload. Vediamo che il codice ha stato stato uploadato e il Femto Duino ha iniziato a blingare. ed è molto buono e molto buono. Quindi, è tutto, la stessa cosa è possibile usando il Femto Duino breakout board. ed è tutto. Questo è il Femto Duino. E credo che sia una cosa molto bella da avere. Perché credo che in molti progetti, i suoi strumenti, è molto importante mantenere i nostri prototipi in un sito che è accettabile per l'utilizzo che va usare i nostri prototipi. Quindi, è tutto. Questo è il Femto Duino. Vedete tutte le strumenti del Femto Duino sul mio sito personal. E è tutto. Grazie per la visione. Grazie per la visione. E restate attivati sul mio sito personal per molti progetti con il Femto Duino e i miei altri progetti come il Fremu. E restate attivati. Grazie e buona notte. Grazie.